Un'altra partita che si aprirà subito dopo le elezioni sarà la Presidenza, il Capo dello Stato, lei che cosa ne pensa? Napolitano è stato un Presidente della Repubblica ineccepibile ed è stato in grado di rappresentare davvero il vertice morale del Paese, in una fase in cui la politica è così contestata, meno male che abbiamo avuto un Capo dello Stato come Napolitano apprezzato dalla stragrande maggioranza del nostro popolo. Personalmente mi auguro che il prossimo Presidente della Repubblica sia una donna e a scanso di equivoci non lo dico pensando a questa o a quella ipotesi, perché in tutti gli schieramenti ci sono secondo me delle donne che hanno capacità, competenza, professionalità, senso di responsabilità, etica pubblica per onorare al massimo la più alta magistratura repubblicana.